Torniamo sulla protesta dei mini sindaci per la quale abbiamo ascoltato la voce di Andrea Catarci dell'undicesimo municipio che ha partecipato che questa mattina era sul tetto del Campidoglio ma erano solo undici i presidenti dei municipi presenti nella fattispecie. È giusto specificare che erano i presidenti dei municipi di centro-sinistra perché questo non è di fatto un mistero. Qualcuno non ha partecipato come per esempio il presidente Daniele Giannini della diciottesima municipalità che abbiamo su queste frequenze al quale diamo il buonasera. Buonasera e benvenuto. Salve e buonasera a tutti. La prima domanda è perché non ha partecipato? Perché non è stata un'iniziativa né concordata né tantomeno ci è stato chiesto di partecipare quindi diciamo che quello che magari nella sostanza noi possiamo anche condividere perché bene o male non penso che ci siano municipi che abbiano un trattamento rispetto ad altri quindi un trattamento migliore. E quindi però poi quando andiamo a fare queste cose come al solito questi undici come i meni sindaci cercano la loro visibilità anche perché molti di loro penso sono mai al secondo o terzo mandato quindi non si possono neanche più ripresentare. Quindi è una questione penso molto di visibilità personale. Che poi i problemi esistono voglio dire nessuno lo nega però non è certo dividendo Roma in due fazioni di municipi da una parte e municipi da un'altra parte insomma che si fa del bene alla città. Senta mi spiego una cosa voi avete avuto tagli rispetto al bilancio dello scorso anno quest'anno è identico come investimenti? Come piano investimenti noi abbiamo avuto un incremento ma non perché il comune ci abbia dato maggiori soldi. Il sindaco in una riunione con tutti i presidenti di municipio ha detto che se noi andiamo a recuperare all'interno delle pieghe dei bilanci municipali del passato dei residui passivi li avremmo potuti riutilizzare sul territorio. Io ora non so se sono stato più bravo o più fortunato comunque ho trovato tutta una serie di opere finanziate nel 2004, 2005, 2006 che non erano state realizzate o su cui non esistevano neanche progettazioni. Abbiamo recuperato quei fondi che erano fondi comunque ancora rimasti in bilancio e li abbiamo ripodulati su altre opere quindi abbiamo quasi 4 milioni di euro che diciamo anche di questi tempi sono veramente tantissimi. E' una manna improvvisa? Sì sì una manna improvvisa però ci abbiamo lavorato insomma abbiamo ricercato con i nostri uffici tutti i bilanci degli anni passati per vedere se c'erano delle opere che poi non erano state realizzate. Questo credo sia un dato comune un po' a tutti i municipi perché poi ci sono stati obiettivamente dei ritardi sugli investimenti. Sì 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 no ma noi l'altro anno penso un po' come tutti i municipi siamo usciti nel bilancio del 2010 che sono provati a luglio con zero sul piano investimenti quindi con la quasi totale impossibilità di realizzare nuove opere e anche di fare delle manutenzioni straordinarie. Quindi diciamo la situazione è quella che sappiamo è molto grave però non penso che facendo così insomma queste operazioni che poi rappresentano solo una parte si va del bene alla città. Senta una cosa che interessa i cittadini voi come municipio così come gli altri probabilmente riuscite a garantire i servizi che erano in atto nello scorso anno? Noi ad oggi sì, quello pure è un tema di allarmismo che sicuramente ha dei suoi fondamenti però non è che può essere usato ogni volta Una ragione di scusa per Sì come scuso di rita a novembre interromperemo. Noi abbiamo visto che più volte avevamo dei fondi in via di scadenza poi ci sono stati quando non c'è il bilancio c'è l'assestamento e quindi quando parlano di sociale io ho visto che ogni volta sul sociale da parte del sindaco, dal sessore Belviso c'è stato sempre attenzione o comunque quando mancavano i soldi alla fine si è parato a queste emergenze con dei finanziamenti straordinari. Quindi diciamo c'è sicuramente da stare sempre molto attenti però ho visto che ogni volta anche se con grandi difficoltà noi che forse all'ultimo momento però siamo riusciti sempre a garantire tutto. Per cui lei presenta un quadro di difficoltà obiettive che stanno soffrendo i comuni, i municipi, parallelamente però afferma che i servizi che erano in atto nel 2010 vengono confermati nel 2011 per cui non ci sono tagli aggiuntivi rispetto allo scorso anno. No, no, sul sociale non ci sono stati assolutamente dettagli aggiuntivi, lo dobbiamo, quindi da quel punto di vista regge. È chiaro che poi ognuno vorrebbe avere sempre di più perché comunque magari ci sono delle liste d'attesa che uno non riesce a smaltire e quello chiaramente dispiace e dà fastidio perché tutti noi sul nostro territorio volemmo dare ancora di più. Sarebbe meglio per tutti migliorare i servizi, ampliarli, è un'aspirazione legittima di tutti i municipi voglio dire, questo bisogna farlo compatibilmente con le disponibilità che poi arrivano dal centro anche in relazione praticamente alle ultime vicende e ai tagli. Certo, ma è facile fare la politica che ha fatto il centro-sinistra Roma per questi 15 anni, ha accumulato debiti nel senso che comunque se incassavi 100 e spendi 150 è chiaro che tu sei in grado ogni anno di dire aumenteremo la spesa sul sociale, oggi questo non si può più fare, forse ci è toccato questo in grado compito proprio noi dopo tanti anni di centro-sinistra devo rimettere a posto in ordine i conti del Campidoglio, su questo è abbattuta pure una crisi generale economica che ha fatto che i trasferimenti statali diminuissero sul Comune di Roma, quindi siamo in una situazione francamente che quando tre anni fa abbiamo vinto il Campidoglio e noi i nostri municipi non ci aspettavamo e ci saremmo mai accurati, ecco, perché poi lo facessero loro ma avrebbero dovuto iniziare magari qualche anno fa a ripianare un po' i debiti del Comune di Roma. Speriamo che la situazione migliori e i municipi abbiano disponibilità maggiori per affrontare i servizi cui debbano dare ai cittadini. Noi le ringraziamo molto. Grazie anche a voi. Grazie a Daniele Giannini, Presidente della 18esima Municipalità.